Campo di gioco dello stadio Rocco di Trieste. Questa è la parte che è stata calpestata di più durante la festa a scudetto della Juventus. Siamo nella zona davanti alle panchine, davanti all'ingresso degli spogliatoi, quindi dove la gente è stata di più ad aspettare i giocatori della Juventus. Ci sono un po' di danni collaterali, oltre chiaramente al terreno che si è schiacciato. Sono state portate via delle zolle, dei seggiolini, le bandierine dei calci d'angolo. Allora vediamo di fare un po' il punto della situazione con il comune di Trieste, che è il proprietario dell'impianto. Questo è il danno al campo più esteso? Sì, come potete vedere hanno portato via soprattutto zolle come souvenir nell'area di rigore. Hanno portato via la rete di questa porta. Tutte e quattro le bandierine dei calci d'angolo. E' all'incirca una ventina di seggiolini tra rotti e bruciati, sia nella curva degli ospiti dei tifosi della Juventus, sia nella curva dei tifosi del Cagliari, che erano piuttosto adirati per la sconfitta della propria squadra. Questa è la panchina della Juventus, dove sedevano i giocatori della Juventus durante la preta col Cagliari. Questo è uno dei seggiolini mancanti, che è stato portato via come souvenir da parte dei tifosi juventini che festeggiavano lo scudetto. Altro souvenir che è stato portato via dallo stadio Rocco di Trieste, le bandierine per il calcio d'angolo. Sono rimaste solo le aste, in questo momento non sono neanche inserite, quindi anche queste sono state un ricordo portato via dalla festa scudetto della Juventus. Varco 45, uno di quelli che è stato usato per entrare in campo dai tifosi della Juventus per festeggiare lo scudetto, è forse quello più agevole perché le recinzioni non sono altissime e quindi è stato facilmente superabile. Adesso sono in corso, potete vedere le operazioni di pulizia che in realtà sono cominciate già ieri, da due giorni che stanno lavorando con Solerzia per ripristinare le condizioni igieniche adeguate e presto interveremo a giorni sul terreno di gioco. Naturalmente tutto questo sarà, mi dispiace per il Presidente Cellino, ma a carico del Cagliari perché tra l'altro però è coperto da una polizza fideiussoria per cui non ci saranno problemi, il campo verrà rimesso in sesto presto. Purtroppo la Triestina disputerà i play-out quest'anno per cui il 27 maggio tutto dovrà essere pronto per la partita che si disputerà qui fra Triestina e Latina.